MESI TALIANO VIVA IL CINEMA E IN MAGIO E IN EUROCIATI Quale professore? Quanto prendi? 39, te ne do 300 e io subito ho accettato come una puttana Io non ci torno a casa non lo abbandono Massimo e neanche sua figlia lo farà Sei un delinquente? Ecco cosa sei se ti vuoi ammazzare, fallo da solo Siamo qui per ricordare quello che avvenne 66 anni fa con la liberazione prendete il camelo e tornate a casa andare a casa take the camel e come back to home MESI TALIANO VIVA IL CINEMA in MAGIO E IN EUROCHANEL